Un'accoglienza diversa per i migranti ospitati ad Arezzo, un'opportunità per loro e per il territorio che li ospita con un sistema diverso di accoglienza. È l'intento del nuovo prefetto di Arezzo, Clara Vaccaro, un sistema di accoglienza più razionale per garantire un'opportunità ai migranti favorendo l'apprendimento della lingua italiana, offrendo anche servizi di formazione e specializzazione ai migranti. Quando io parlo di integrazione penso a creare una rete tra tutte le istituzioni perché ciascuno metta quella che è la sua competenza per cercare di trovare dei canali che consentano a questi ragazzi di impiegare il tempo che li separa dall'eventuale riconoscimento dello status di rifugiato o di altra protezione internazionale. Quindi soprattutto l'integrazione passa per la lingua italiana perché è il paese dove vivono e quindi la capacità di esprimersi più facilmente può creargli delle opportunità. Riceverò a breve tutti gli operatori che per noi, per la prefettura, gestiscono i centri di accoglienza e con loro cercherò di individuare quelli che possono essere delle progettualità e delle iniziative, specialmente perché l'inverno è lungo, le giornate sono corte e impegnare il tempo in qualcosa che dia un valore a loro e un valore anche alle comunità che li accolgono secondo me è l'unica strada percorribile. Nei primi giorni del suo nuovo incarico in terra retina il prefetto Clara Vaccaro ha avuto modo di incontrare l'arcivescovo di Arezzo, Cortone Sansepolcro, Monsignor Riccardo Fontana e il sindaco Ghinelli per un confronto sulla realtà retina. In una prima visita così di cortesia, di conoscenza, un po' una panoramica di carattere generale sulla città, città che trovo bellissima e che immagino il sindaco stia facendo di tutto per valorizzare. Per cui c'è stata una panoramica generale su quelle che sono le problematiche di carattere anche degli immigrati, anche della situazione economica e di quelle che sono diciamo le problematiche di carattere generale. Anche al sindaco ho dato la piena disponibilità della prefettura a discutere, ad affrontare qualunque problematica possa interessare la città per cui lui ritenga che sia anche utile un tavolo di confronto e il sindaco mi è sembrato assolutamente disponibile a questo confronto con noi. Poi ovviamente è stato un primissimo incontro e spero che ce ne saranno degli altri per approfondire varie tematiche, immagino che ce ne siano tante.